Sono Cristina, lavoro nel gruppo ERA dal 2010 e mi occupo di integrazione dei processi nell'ambito delle risorse umane e delle comunità di pratica. Quando sono arrivata in azienda nel 2010 mi sono occupata di costruire le prime comunità di pratica. È stato un progetto molto interessante e innovativo quando ancora le comunità di pratica erano delle realtà in pochissime aziende. Questo mi ha permesso di lavorare a strettissimo contatto con tantissimi team di business e aiutarli ad impostare degli strumenti che potessero essergli utili nel rendere la loro vita lavorativa più facile ogni giorno. Per supportare le comunità di pratica abbiamo sviluppato degli ambienti virtuali quali wiki e forum all'interno delle quali è possibile condividere la conoscenza all'interno di team di lavoro anche distanti e sparsi nel territorio e cooperare insieme a creare della nuova conoscenza dando ogni giorno dei suggerimenti pratici che si scoprono nell'ambito della propria attività lavorativa. Se dovessi descrivere il mio ruolo con tre parole sicuramente non potrei non utilizzare collaborazione perché la collaborazione è fondamentale alla riuscita delle comunità di pratica ma anche di tutti i progetti che coinvolgono team differenti. Creatività perché occorre inventare sempre qualcosa di nuovo per coinvolgere le persone e condivisione perché è fondamentale che ognuno condivida con tutti coloro che lo circondano ciò che impara quotidianamente.